Attesa invece per l'unione dei comuni dell'Asta del Serio, come ci spiega il sindaco di Villadonia Angelo Bosatelli, intervistato sempre da Andrea Filisetti. Stiamo continuando, stiamo continuando su questa iniziativa perché riteniamo indispensabile per lo sviluppo del nostro valle, soprattutto per quanto riguarda l'Asta del Serio. Ci siamo incontrati come sindaci delle amministrazioni facenti parte dell'Asta del Serio, quindi da Villadonia a Valbondione, anche se prima dell'elezione abbiamo manifestato anche l'iniziativa di valutare il tutto, anche il comune di Piario, però comunque intanto stiamo andando avanti. Ora siamo rimasti che, facendo una chiacchierata, quindi anche con i nuovi sindaci che sono stati eletti in questa ultima tornata amministrativa, siamo rimasti che prendiamo un attimino ancora al tempo di un paio di mesi, due o tre mesi, perché loro adesso approfitteranno con i propri gruppi di appartenenza consigliari per discuterne. Nello stesso tempo si verificherà un attimino anche la proposta di legge Calderoli sul riordino di tutta una serie di enti, quindi l'appuntamento è tra due o tre mesi dove ci ritroveremo per fare il punto di situazione e da lì però comunque andremo avanti con le amministrazioni comunali che già avevano dato la disponibilità, deliberando anche nei propri consigli comunali, assieme a chi comunque deciderà di proseguire in questo cammino. Quindi per l'Unione dei Comuni dell'Asta del Serio aspettiamo qualche mese. Nel frattempo state lavorando al distretto del commercio. Sì, questa riteniamo un'importante iniziativa dove già due anni fa io personalmente avevo interessato la comunità montana nel rendersi un attimino partecipe a questo coinvolgendo i comuni. Purtroppo si è arenato tutto, adesso però non vogliamo perdere ulteriore tempo. Ci sono in mani delle grosse risorse, delle grosse possibilità di portare a casa soldi e risultato sia per quanto riguarda i nostri commercianti stessi che anche per l'amministrazione comunale. Quindi ne ringraziavi e approfitto quindi di questa intervista per invitare tutti i commercianti che appartengono ai comuni da Villadonia fino a Val Bondione ad essere presente a un incontro che abbiamo organizzato venerdì 10 luglio, quindi venerdì prossimo, alle ore 14 presso la Sala Locatelli nel Comune di Gromo. Perché vi verrà illustrato questo bando, tutte le possibilità che ci sono, in funzione a tutta una serie di voci. In questa prima fase è abbastanza semplice perché ci sarà solamente da compilare delle schede, ma abbiamo una grossa opportunità di approfittare di questo importante bando. Certo, ci dobbiamo sedere e avere una politica comune.